Cristiano Ronaldo come testimonial. Avevo preannunciato un video su PES 2013, eccoci qui. PES 2013, forse uno dei più bei capitoli della storia di PES in questi ultimi dieci anni. Naturalmente parlando con la community che mi segue su TikTok o su YouTube, PES 2013 trova riscontri molto positivi. Naturalmente mi suggeriscono il 17, il 14, il 12. Insomma PES ha fatto tanti bei capitoli. Andiamo a vedere un po' il menu perché c'era la Champions League ufficiale, la Libertadores e Football Life che ora è una patch per PES 2021, sembra un nuovo gioco ma in realtà Football Life non è niente di nuovo e non è nient'altro che Master League o diventa un mito. Andiamo a fare invece una partita, andiamo a fare una partita, un'esibizione e andiamo a fare la finale di Coppa Italia della stagione 2013-2014 perché io qui ho installato appunto la patch 2013-2014 e ci andiamo subito. E tra l'altro c'ho una patch dove mi mette la seconda Bundesliga. Va bene così, va bene così. Anche qui sto valutando nel far qualcosa, stavo pensando e qui naturalmente sono aperto anche alle idee che mi proponete voi o a una Super Lega europea da 20 squadre pescando i migliori 20 team di quell'anno o addirittura una cosiddetta World League. Però insomma attendo anche i vostri riscontri. Intanto andiamo a giocare quella che fu la finale di Coppa Italia di quell'anno, vale a dire Napoli-Fiorentina. Naturalmente non saranno le stesse formazioni, lasciamo giusto scorrere il gioco. Naturalmente io mi metto in modalità coach, eccolo qui, anche se comunque non è tanto distante coach mode on dalla Fiorentina qualcosa perché ce l'ho qui sotto mano la finale e giocavano Joachim e Ilicic davanti e invece qui mettono Mario Gomez e Rossi. Ma va bene, non importa, andiamo a vedere lo stesso. Tra l'altro gli stadi, la particolarità bella di questo gioco era il Create Stadium, la possibilità di crearsi tutti gli stadi che si volevano. Tant'è che qui ho trovato il Massimino, ho trovato insomma belle situazioni. Lo Stadio San Paolo non è proprio questo, ma noi andiamo allo Stadio Olimpico. C'erano tanti stadi, guardate quanti ce n'erano. Eccolo qua, Stadio Olimpico. Perfetto, perfetto. No, io voglio la Fiorentina in viola. Io direi di andare e vederci questo Napoli-Fiorentina con PES 2013. Adesso le squadre stanno entrando in campo. Vedremo le informazioni. La grafica era veramente eccezionale, ma soprattutto la cosa bella, la cosa bella di questo gioco, il fatto che in molti, in molti mi hanno detto durante le live di TikTok, vi ricordo il mio canale, AlexGarson76, come questo gioco fosse molto più simulativo rispetto agli ultimi. Sicuramente ha i suoi limiti dovuti sicuramente all'età. Quello che posso dire è che dal punto di vista tattico questo gioco qui è una bomba. Nel senso che vedrete spesso i giocatori cambiare posizione, trovarsi anche in posizione fuori dalla propria zona, in un certo senso, in un modulo un po' libero. Guardate adesso i Guain come va a spaziare. Sicuramente tengono una determinata posizione, però ogni tanto i giocatori spaziano. Mettiamola così. Ora vediamo il Napoli, questo Napoli-Fiorentina, il Napoli vinse quell'edizione della Coppa Italia. Vediamo, insomma, qui se si ripeterà la storia. Ma soprattutto è bello vedere questo gioco anche giocato dalla CPU, perché è veramente eccezionale, anche se ci sono alcune situazioni al limite del paradosso, però sicuramente il gioco giocato dalla CPU, tipo adesso, guardate, tiro di prima intenzione, non si vede tanto giocato dalla CPU targata PES 20 o PES 21. Bisogna effettuare delle modifiche al gameplay, naturalmente, se avete queste edizioni di PES 20 e PES 21 per PC. Vi domanderete, Alex, ma tu dove hai trovato PES 2013? Lo stai facendo girare per console? No, non lo sto facendo girare per console. Lo sto facendo girare su PC, come in tanti conoscono, lo sto facendo girare appunto sul computer, e si trova in tantissime piattaforme intermediarie all'instant gaming, per intenderci, in maniera molto semplice e a un costo veramente bassissimo. Io lo trovai addirittura 5 euro, quindi insomma bene così. Intanto adesso seguiva l'azione perché il Napoli qui ha rischiato, Inler, che aveva un tiro da fuori eccezionale, veramente aveva un missile terraria quando ci si metteva. Quadrado, un giovane Juan Quadrado. Prova il colpo di testa Mario Gomez, Mario Gomez, ex Bayern, che approdò sulla sponda viola Manuel Pasquale, alla battuta, al cross in mezzo, ed è ancora calcio d'angolo, probabilmente, assolutamente sì, calcio d'angolo. Mi piace moltissimo questa inquadratura dall'alto. Inler allontana, vediamo Marek Amsic, che pizzarro. Guardate che belle rose comunque che c'erano. Qui addirittura, attenzione perché Maggio rischia di regalare il pallone a Giuseppe Rossi. Borca Valero, Gonzalo, prova il tiro parata di Reina, abbastanza difficoltosa. Palla viene messa in fallo laterale. Partenza della Fiorentina a bomba, un Napoli abbastanza in difficoltà. Qui Raul Albiol però svetta su tutti. Amsic può lanciare il contropiede, Gonzalo Higuain. Attenzione, Amsic va via ad Aquilani, Berami. Va Berami, Amsic segue l'azione, ma la segue anche Higuain. Ed è Gonzalo il pipita Higuain a portare in vantaggio il Napoli, quando aveva ancora tutti i capelli e non aveva la barba. E non sembrava Giobbe Covatta. Gonzalo porta in vantaggio il Napoli. Gran azione di contropiede. E questa è la bellezza di questo gioco. Guardate, Amsic che supera in velocità e praticamente spacca la difesa. E qui Higuain, di prima intenzione, batte il portiere della Fiorentina che, se non sbaglio, era a Toldo. Per carità, è un lookalike. Non somiglia tanto a Higuain, però va bene lo stesso. Bello a queste inquadrature. Livediamolo. D'esterno, Berami. Era Neto in porta e non Toldo, scusate. Neto era in porta. Neto che poi è finito anche Espon da Barcellona. Pasquale. Borca Valero. La Fiorentina dopo un buon inizio, ha subito la ripartenza del Napoli. Attenzione perché il Napoli può ripartire. Inler. Cagliejon. La chiama Higuain. La chiama. Va lo spagnolo. Va Cagliejon. Prova il diagonale Cagliejon. È la fine. Non lo affronta nessuno perché tutti a guardare Higuain. Va ora Neto al rinvio. Bizarro. Per Quadrado. Mario Gomez. Gomez. Paolo Cannavaro. Higuain che fa reparto da solo. All'epoca era forse uno dei, tra le top ten dei numeri nove a livello mondiale. Anche se poi nel 2014 ha quella occasione della Coppa del Mondo veramente sui suoi piedi. Sbagliata. Qui intanto Gomez, Pisarro. Il fallo di Inler. Calcio di punizione. Partita viva. Comunque partita divertente. Hamzik. Inler. Hamzik per Berami. Allarga. A destra per Cagliejon. Le fasce stanno mettendo in difficoltà. Fiorentina. Cagliejon. Allunga per Higuain. C'è solo Mertens. Dall'altra parte arriva Hamzik. A rimorchio. Il tiro. La parata su Quadrado. E qui veramente. Ecco la bellezza di questo gioco. Le azioni improvvise. Travolgenti. Mertens. Crosse in mezzo. Qui la Fiorentina va in difficoltà sulle ripartenze del Napoli. Aquilani. Mertens. Per Quadrado. Qui stavo valutando l'ipotesi di ripetere quella stagione lì con PES 2013. Oppure di fare una sorta di Super Lega Europea. Aspetto i vostri consigli tra i commenti. Berami. Armero. Per Mario Gomez. Giuseppe Rossi. Che purtroppo ha avuto una grandissima carriera sfortunata. Ed è un peccato. Perché veramente Giuseppe Rossi. Aveva tutti. Intanto attenzione. Amzig lanciato. Roncaglia segue un po' di confusione. Neto. Mette tutto a posto. E la spara in fallo laterale. Berami. Lancio lungo. Roncaglia libera. Callejon era pronto alla battuta. Gonzales. Borja Valero. Anzi scusate Gomez. Non Gonzales. Pizarro. Tiene la palla. Aquilani. Adesso vedete l'Aquilani sulla destra. Completamente fuori posizione. Ma è proprio questo il bello. L'intercampiabilità delle posizioni. Che prendono i giocatori in campo. Lanciato Mario Gomez. Per Giuseppe Rossi. Attenzione. Giuseppe Rossi. Il sinistro. Ereina. Grandissima parata del portiere del Napoli. Vai. Ringler. Per Berami. Attenzione alla ripartenza. Il lancio a sinistra per Dries Mertens. Tra l'altro è bello vedere sto gioco. Perché a distanza di dieci anni. C'è ancora qualche giocatore in attività. Tipo Quadrado. Per esempio. Dries Mertens. Amzig. Amzig intanto. Il gran tiro. Che sfiora il palo. Neto era in posizione. Però veramente Amzig non ci ha pensato due volte. Grande azione. Ancora del Napoli. Non ci ha pensato due volte Marek Amzig. Anzi. Tra questi 22. Vediamo se riconoscete qualcuno che è ancora in attività calcistica. Amzig per Berami. Berami. Armero. Un pazzo. Armero. Veramente era un pazzoide. Dries Mertens. Va via Quadrado. Di tacco per Berami. Iguain. Ancora Iguain. E qui Neto fa un miracolo su Iguain. Veramente da due passi. Guardate. Iguain ha tutta la porta a disposizione. Alla fine non riesce a ribadire in rete. Forse complice. Il disturbo di Loncaglia. Infatti è calcio d'angolo. Amzig. Per Iguain. Manuel Pasquale. Può ripartire la Fiorentina. Giuseppe Rossi attende palla. Mario Gomez. Mario Gomez. Giuseppe Rossi sul filo del fuorigioco. Se veniva servito. Aveva campo aperto. Fallo intanto di Mario Gomez. Anzi no. Fine del primo tempo. Bella partita. Qui all'Olimpico. Per il momento tante belle statistiche. Tanti tiri in porta. Squadre aperte. Squadre che se la giocano. Ed è proprio questo la bellezza di questo gioco. Borca Valero. Vediamo in questo secondo tempo se la Fiorentina risolleverà un po' le sue sorti. Dries Mertens. Attenzione che c'è nello spazio Amzig fermato da Pizarro. Quadrado. Va il colombiano Aquilani. Lo segue sulla verticale. Alla fine invece sceglie Mario Gomez. Per quadrado Giuseppe Rossi in mezzo da solo. Non c'è nessuno da servire per il cross. Armero lo blocca. Il colombiano nazionale. Dries Mertens. Iguain chiama palla. Va via Mertens. Tacco di Iguain per Amzig. Attenzione c'è Cagliecon. Servito. Cagliecon nello spazio. Cagliecon netto. E alla fine Berami. Non può far altro che ribadire in rete. Raddoppio del Napoli. ha segnato Berami. Ma qui il Napoli ha costruito un'azione pazzesca. Soprattutto il colpo di tacco di Iguain che spacca un po' la difesa in due. E qui Amzig si porta a spasso mezzo alla difesa della Fiorentina. Il tiro di Cagliecon parato. Netto all'ennesimo miracolo. Ma sulla ribattuta di Berami non può farci nulla. Ed è raddoppio. Del Napoli. Abbiamo ora Gonzalo per Savic. Pasquale. Fermato da Cagliecon. Rimessa a laterale. La Fiorentina la deve riaprire immediatamente se vuole cercare di andare al pareggio. Borca Valero per Pasquale. Pasquale fermato da Gokhan Inler. Berami. Attenzione perché adesso il Napoli va nello spazio. Ripartenza di Cagliecon. C'è solo Iguain al centro dell'area di rigore. La chiama. Invece viene servito Amzig. Il tiro dello Slovacco ribattuto. Aquilani per Mario Gomez. Giuseppe Rossi. Pasquale. Pisarro. Per Quadrado. Gomez. Armero. Fermo tutto. Attenzione. Ripartenza del Napoli. Che quando va via in velocità. Attenzione. Amzig lanciato nello spazio da Iguain. Amzig è solo. Neto praticamente chiude la porta. E chiude la possibilità che il Napoli chiuda definitivamente la gara. La tiene un po' aperta Neto. Attenzione. Gol sbagliato. Gol subito si dice. E qui c'è Giuseppe Rossi. In area di rigore per Mario Gomez. Paolo Cannavaro. Attenzione. Aquilani che ha un buon sinistro. E Paolo Cannavaro. La prende in pieno petto. Si immola. Iguain. L'azione. Non ha un attimo. Non si ferma un attimo. Si va da una parte e dall'altra. Con ritmi altissimi. Dries Mertens. Fermato da Quadrado. Borca Valero. Fermato Giuseppe Rossi. Il Napoli negli anticipi è stato praticamente perfetto. Negli anticipi difensivi. Attenzione. Cagliejon. Borca Valero. Borca Valero cerca di andare via. Inler. Savic. Per Gonzalo. Il lancio in direzione di Giuseppe Rossi. Gomes. C'è Pasquale a sinistra. Fallo. Calcio di punizione. A favore della Fiorentina. Fiorentina che sta cercando di riaprire la entra. Joaquin. Per Pizarro. Quindi. Un centrocampista più di sostanza. Attenzione. Si prova la torre. Niente da fare. Inler. Hamzik. Per Inler ancora. Sulla destra. Per Cagliejon. Sulle fasce. Il Napoli ha sfondato. Da tutte e due le parti. Higuain. E qui Savic. Fa buona guardia. Ripartenza quadrado. Ora gioca in mezzo. Mentre Joaquin. Ha spostato a destra. Gomez chiama il fallo. Che non viene accordato. Mertens per Higuain. Decentrato a sinistra. Prova Higuain. E Neto. Mette in calcio d'angolo. Ancora il Napoli. Pericolosissimo. Con Gonzalo Higuain. Il tiro. E Neto. Chiude la porta. All'argentino. Va Hamzik. In mezzo. Hamzik. Alla fine interviene. Roncaglia. Ma la mette di nuovo in calcio d'angolo. Ma ancora Mare Hamzik. Il cross in mezzo. Non c'è nessuno. La palla scorre. Borja Valero. La spazza via. Mario Gomez. A far da torre. Ma Paolo Cannavaro lo sovrasta. Armero. In velocità. Va nello spazio. Per Mertens. Attenzione. Mertens. Per Cahiehon. E ancora Neto. La partita non dà un attimo di respiro. Veramente. Bellissima. Forse una delle migliori partite che abbia mai commentato. Mi sto divertendo tantissimo. Spero che si percepisca il mio entusiasmo. Quadrado. Per Aquilani. Che va nello spazio. Cannavaro lo segue. Fermato. E il Napoli può ripartire. Ingler. Per Berami. Il lancio. Lungo. Qui Roncaglia. Fa buona guardia. Gonzalo. Attenzione. Perché c'è l'altro Gonzalo. Higuain. Che è sempre una minaccia lì davanti. La Fiorentina per cercare di riaprirla. Il Napoli. Per provare a chiuderla. Quadrado. Va qua. Quadrado. Va il colombiano. Bel passo doble del colombiano. Però alla fine. Troppi giocatori napoletani intorno. Si brucia di fatto le opzioni di passaggio. Ma è ancora lui a intervenire sulla fascia. Forse in questa ripresa sicuramente Quadrado è salito. Di livello. Ma quello che manca alla Fiorentina è uno che salti l'uomo. Come ha fatto il Napoli con Gonzalo Higuain. Però Mario Gomez. E attenzione. Palla veramente tesa. Lì si rischia tante volte che il difensore metta il piede. E faccia un autorete che per quanto possa essere bella. Ma è deleteria per la propria squadra. Hamzik. Siamo già dall'altra parte. Per Kayejon. Savic. È proprio lì che respinge la palla. Qui sulla fascia veramente il Napoli. Ha fatto quello che voleva. Creando sempre superiorità numerica. Maggio. Addirittura. C'è Maggio in area di rigore. A cercare gloria. Ilicic è entrato. Intanto. Hamzik. Il croce in mezzo. Libera. Savic. Aquilani. Per quadrado. La Fiorentina cerca un contropiede. Mario Gomez lanciato nello spazio. Ma Berami. Lo svizzero. Fa buona guardia. Paolo Cannavaro. Va nello spazio. Lancio lungo in direzione di Higuain. Fa buona guardia. Questa volta Savic. Ancora una volta. Quadrado. Un minuto di recupero. e il Napoli potrà di nuovo assaporare la vittoria. Anche in questa remake virtuale. Qui Berami addirittura va sulla fascia. C'è Gonzalo Higuain che prova il colpo di testa. E finisce così la partita. Finisce 2 a 0. E finisce esattamente con la stessa differenza reti. Perché il Napoli vinse in realtà per 3 a 1. Amici è stato bellissimo. E soprattutto veramente datemi consigli. Se volete un qualche esperienza PES 2013. Da inserire nella programmazione. Li avevo preannunciati questi due video che mi sono serviti. In realtà sono stati registrati un po' di un mesetto fa. Rispetto a quando lo vedete. Ma era in programma appunto questa pausa del canale. Per dare spazio a questi contenuti. Prima PES 6. Poi PES 2013. Grazie ancora a tutti. Un abbraccio. E ciao a tutti. Grazie.